In una piazza San Pietro gremita di fedeli, Papa Francesco ha ricevuto in udienza i gruppi di preghiera di Padre Pio, i sostenitori e i dipendenti della Casa Sollevo della Sofferenza, il grande ospedale pugliese voluto dal frate, e i fedeli dell'Arcidiocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo. Un servitore della misericordia che ha praticato fino allo sfinimento l'apostolato dell'ascolto, così il pontefice ha definito San Pio da Pietrelcina una carezza vivente del padre, grazie al Ministero della Confessione. Dissetandosi da Gesù, la sua piccola goccia è diventata un fiume di misericordia che ha irrigato tanti cuori deserti e ha creato osi di vita come i gruppi di preghiera, veri focolai di amore divino centrali di misericordia. La preghiera, ha ricordato il Papa, è un'opera di misericordia spirituale, non dettata dall'egoismo, ma una via per portare tutto a Gesù e affidarsi a Lui, un'arma, come diceva padre Pio, che apre il cuore di Dio. E' una chiave facile. Il cuore di Dio non è blindato di tanti mezzi di sicurezza. Tu puoi aprirlo con una chiave comune, con la preghiera, perché è un cuore d'amore, cuore di padre. E' la più grande forza della Chiesa, che non dobbiamo mai lasciare, perché la Chiesa porta frutto se fa come la Madonna e gli Apostoli che erano perseveranti e concordi nella preghiera, quando aspettavano lo Spirito Santo. Perseveranti e concordi nella preghiera. Altrimenti si rischia di appoggiarsi altrove, sui mezzi, sui soldi, sul potere. Poi l'evangelizzazione svanisce, la gioia si spegne e il cuore diventa noioso. Voi volete avere un cuore noioso? No? Volete avere un cuore gioioso? Pregate! Questa è la ricetta! Ricordando l'opera della Casa Sollevo della Sofferenza, nata 60 anni fa, Papa Francesco ha sottolineato l'importanza di curare le ferite del corpo e dell'anima nei malati, che sono la carne di Cristo. Infine, salutando i fedeli dell'Arcidiocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, ha ricordato la bellezza di quella terra che gli piacerebbe visitare.